Quando ero ragazzo ho sempre odiato un po' chi mi diceva cosa dovevo fare, perché eravamo piccoli, ragazzini, adesso è il momento di fare gli adulti tutti, il momento è complicato, vedete tutto quello che sta succedendo, noi abbiamo un'unica possibilità, rispettare le regole, ma rispettarle davvero, non pensare che a noi non possa accadere nulla, perché purtroppo è un virus, non ha frontiere, non guarda la carta d'identità e adesso colpisce anche chi è giovane, quindi mi raccomando, usiamo la testa, non lasciamoci prendere dal panico, continuiamo a vivere, ma rispettiamo le regole, soprattutto stiamo a casa, ciao! Ovviamente ci vediamo quest'estate nel vostro bellissimo Gargano, mi raccomando, ciao!